Stimatissimi Vapers, benvenuti a un nuovo video in compagnia di Moreno. Cosa dite? Certo, se ne è parlato, se ne sta parlando e molto probabilmente se ne parlerà ancora. Andiamo in casa Vendivape per vedere il nuovissimo Berserker MTL RDA disegnato dal Alex Vapers. Questa è la confezione in cui vi arriva questo atomizzatore, ora guardiamo il suo contenuto. Il suo interno abbiamo l'atomizzatore, due anelli estetici e vari parti che poi vi spiegherò a cosa servono. Togliendo il rivestimento gommato troviamo al suo interno anche un certificato di qualità firmato dalla Vendivape. Abbiamo le parti di ricambio che sono costituite da diversi accessori, abbiamo un piccolissimo cacciavite, un pin fisso placcato oro, il pin BF placcato in oro l'ho già preinstallato, una vite a croce dorata e le due vitine per le torrette. Poi abbiamo una serie di O-ring, ce n'è uno un attimino più spesso, due un altro O-ring di un'altra dimensione, un altro O-ring leggermente più sottile, altri due O-ring più minuti e qui sotto ne troviamo ancora uno più piccolo. All'interno oltre alle spar part o le cosiddette parti di ricambio troviamo naturalmente inevitabile le Superfine MTL Fused Clapton Coil. Sono costituite da due fili interni, il core in 30 gouge e frappate esternamente con un filo di 38 gouge per un valore di impedenza 0,7 ohm. Il contenuto indubbiamente molto curioso. Abbiamo il primo anellino estetico, veramente pesante, bellissimo questo acciaio e anche fantastica la sua particolare lavorazione. Questo anellino vi permette di adattare il vostro atomizzatore con un diametro esterno pari a 22 mm. Il secondo accessorio è composto da un ulteriore anellino estetico, vi permette di allargare con questo anello il diametro esterno fino a un massimo di 24 mm. Gli accessori che fanno parte dell'atomizzatore sono queste piccole sezioni. Allora iniziamo. Questo è un tip sostitutivo di colore nero. Questa qui è una chiavetta con due diametri diversi, dovrebbe essere 2,5 e 2 mm, che vi permette di adattare la vostra coil una volta posizionata all'interno. Da non tenere in poca considerazione, sono questi 6 adattatori che vi permetteranno di fare un'ulteriore regolazione del flusso d'aria posta sotto la coil. Queste sezioni qua verranno introdotte poi nell'atomizzatore per il vostro gradimento a secondo del tipo di rigenerazione che faremo. Ma permettetemi di presentarvi Berserker MTL RDA. Bello, pesante. Abbiamo 6 fori di diverso diametro. Mi piace tantissimo entrambe queste lavorazioni, sia questa particolare zigrinatura che è posta in questa sezione, che questi anellini di dissipazione che, oltre che a fare appunto l'effetto di raffreddare il vostro vapore, regalano anche un fantastico design estetico. Il tip originale mi piace molto, quello preinstallato. Bellissima la lavorazione, è un bellissimo acciaio. Come vedete monta su ancora l'adesivo, lo andiamo a togliere. Berserker MTL RDA con la stampa laser, lo smaltimento, il marchio CE, la firma Alex Vapor e naturalmente tutto il seriale. Ecco la scrittura che è stato prodotto dalla Vendi Vape. Cosa che troviamo interessante è la placatura del pin in oro, la vite placata oro. L'isolante posto esternamente allo stesso pin, veramente spessa. L'atomizzatore ha una larghezza di 18 mm. Con il tip proprietario arriviamo quasi a 37 mm. Le parti che costituiscono il nostro atomizzatore sono composte da un deck, da una campana, un particolare tip con attacco 510 compreso di dissipazione e il tip vero e proprio che viene avvitato. Questo è il tip, mi piace molto questo tipo di colorazione, come vedete ha un innesto a vite. Questa è la sezione con l'attacco 510, doppio O-ring di tenuta, bello solido. Cosa particolare è anche questo effetto, questa particolare lavorazione ad imbuto che agevolerà notevolmente il flusso dell'aria al suo interno. Bellissimi gli annellini, questa vedete è la vite, questa sezione qui può essere sostituita montando su un altro tip di diversa natura. Rimontando il tip originale controlliamo il suo diametro interno, veramente minuto. 3 mm, punto 2, aspettiamoci un tiro bello stretto per questo atomizzatore. La campana del nostro Berserker MTL RDA. Come vi dicevo mi piace tantissimo questa zigrinatura che aiuta agevolmente per la rotazione, per i flussi d'aria. Belle le finiture, non noto alcuna vava di lavorazione. Questa non è una riga ma è una sezione di appoggio. Con i fori dell'aria andiamo dai 2 mm al 0,6 mm con i vari step, ma soffermiamoci sul cuore. Questo è il cuore del nostro Berserker, doppio ring di tenuta ben distanziati. Questa sezione qui non è una grande asola ma è il punto di inserimento dei nostri sezionatori d'aria. Queste sono le due torrette, come vedete viene cercato anche una particolare rotondità per agevolare il flusso dell'aria. Il pin BF, come notate, esce in queste due mezzelune che si trovano lateralmente. Niente da dire, un 18 mm indubbiamente da studiare, molte potenzialità e molte elasticità. Ho inserito la coil, questa a grandi linee è la posizione in cui andrebbe posizionata la coil. Ecco qua la vista dall'alto. Ora andiamo ad attagliare le eccedenze. Le coil di natura complessa, come queste qui, richiedono particolare attenzione alla prima attivazione. Quindi date dei piccoli impulsi, perché in realtà si possono generare già dall'inizio alcuni piccoli hot spot. In effetti ci sono. Basta muovere un po' le spire con molta attenzione. La coil risulterà pronta dall'interno verso l'esterno. Ecco cosa serve l'attrezzino dato in dotazione per fare una piccola regolazione, per raddrizzare la coil stessa, portarla al centro il più possibile. La profondità del nostro deck è veramente alta. Quindi non preoccupatevi se i baffi sono leggermente un po' più lunghi. Lo richiedono in questo particolare atomizzatore. Andiamo a inserirlo al suo interno. Il cotone è stato opportunamente inserito nel nostro Berserker. E prima di fare qualsiasi cosa, verifico che non ci sia del cotone che vada a ostruire la mia camera dell'aria. Quindi lo dispongo. Prima di inserire il mio flusso d'aria, vado ad attivare il cotone. Perché lo faccio prima? Per non far cadere accidentalmente del liquido nel foro stesso. Facciamo le piccole attivazioni. L'atomizzatore è pronto. Inserisco il mio flusso d'aria al suo interno. Il flusso dell'aria esterno si trova solo da un lato, quindi avrete una sezione chiusa e una sezione aperta. Sembra che il video sia scorrevole, ma in realtà mi sono preso tutto il tempo per poter testare, configurare. Ho provato le varie sezioni con i fori per vedere qual era la configurazione più consona alla coil che ho preinstallato. Ricordo che ho montato su una coil direttamente offerta da loro. Si tratta di una fused in Nikron con un valore resistivo di 0,7 ohm, che poi alla fin fine mi ha portato a scegliere l'opzione con la microasola. E mi sono adattato il penultimo foro in ordine di grandezza. Commenti? Indubbiamente fa pensare perché è un atomizzatore veramente economico. Fatto bene, molto elastico e ha una buonissima resa aromatica. Notevole, 0,7 ohm è il valore di impedenza che io utilizzo abitualmente nella modalità MTL e mi trovo gradevolmente appagato. Sia dal livello aromatico che della natura in vapore che mi viene regalata nel palato. Generosissimo in questa configurazione, mi si addice tantissimo. Dai canto mio, non posso altro che promuoverlo. Per me, signori della Vendevape, il vostro Berserker MTL RDA ha superato ogni test. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale e condividetelo in Facebook. Perché voi siete la mia energia. Voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani. Berserker MTL RDA Berserker MTL RDA Berserker MTL RDA